Ogni volta che affronto un film è come affrontare tutto sommato qualcosa che non conosco. E più mi emoziono e più il film riesce bene. Per cui io conoscevo, anzi ci sono dei pezzi di Shea Wheeler che ho girato io stesso a proposito di un altro film dossier che ho fatto su Piero Manzoni. Però diciamo che ho avuto l'opportunità di conoscere questa mente straordinaria che per quello che mi riguarda è anche un ispiratore. Perché Metamorfosi è una piccolissima casa editrice, però questa volta video. E diciamo che questo film ha insegnato tantissimo. E devo oltretutto dire anche grazie ai bellissimi testi di Laura Novati che mi ha aiutato veramente tanto. Quindi quando si hanno degli ottimi attori e un'ottima sceneggiatura il film riesce facile. Ecco, volevo dire solo questo. Grazie. 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 Grazie.